Ben ritrovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. La giornata di oggi è caratterizzata dal transito di un debole sistema frontale sulle Alpi con velature a tratti consistenti e qualche nube bassa. Domani venerdì torna il sole con un promontorio anticiclonico ma sabato avremo un rubino aumento a causa di un flusso umido dai quadranti meridionali che precederà l'arrivo di una perturbazione attesa per domenica. Il dettaglio oggi, giovedì 7 febbraio parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte a tratti consistenti associati al transito appunto di un debole sistema frontale sulle Alpi. Da metà giornata possibile locale formazione di nubi basse sulla costa per la rotazione del flusso dai quadranti meridionali. 20 deboli settentrionali tendenti a disporsi dai quadranti meridionali. Mare poco mosso localmente mosso in serata a Ponente. Temperature massime in diminuzione lungo la costa intorno 14-15 gradi nelle zone interne tra 9 e 14 gradi. Domani venerdì 8 febbraio la temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico riporta condizioni in prevalenza soleggiate a parte velature a tratti consistenti nel pomeriggio. Residui addensamenti di nubi basse nelle prime ore in particolare a Levante sui versanti padani. 20 deboli o moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali in attenuazione nel pomeriggio fino a deboli variabili o nei regimi di brezza a specie a Levante. Mare in prevalenza mosso in calo a poco mosso in serata a partire da Ponente. Temperature minime stazionare lungo la costa tra 5-8 gradi nell'interno tra meno 4 e 0 gradi. massimi in aumento lungo la costa tra 15 e 17 gradi nelle zone interne tra 10 e 14 gradi. Dopodomani sabato 9 febbraio la rotazione del flusso dei quadranti meridionali è associata a un graduale aumento della nuvolosità sul centro e sul Levante con possibili più baschi sparsi più probabili dal pomeriggio. Nubi più irregolari con schierite anche ampie sull'estremo Ponente. 20 deboli o localmente moderati da nord-est sull'imperiesa in prevalenza moderati meridionali altrove. Mare inizialmente poco mosso in aumento a mosso o localmente molto mosso in serata a Levante. Temperature minime stazionare lungo la costa tra 6 e 8 gradi nell'interno tra meno 3 e 1 grado. Massime in diminuzione lungo la costa intorno a 14-15 gradi nell'interno intorno 11-12 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina facebook di Arpal a risentirci.